Un ricco calendario di appuntamenti che hanno offerto nuove opportunità agli editori nazionali e internazionali che hanno partecipato all'evento organizzato dalla regione Puglia ad aprire lavori a Lecce presso il Museo Storico MUST un focus su mercati e sistemi distributivi dei paesi coinvolti che ha individuato nell'innovazione, nella promozione culturale la chiave per il futuro dell'editoria colpita in modo particolare dalla crisi. Nel 2015 infatti sono state vendute un milione di copie di libri in meno rispetto all'anno precedente mentre sono cresciuti del 66,6% i titoli digitali. È un festival che mette insieme il mondo dell'editoria per ragionare di uno sviluppo della cultura anche attraverso il libro che rimane eccellente sia che sia in cartaceo sia che sia web ma pur sempre si tratta di un investimento importante sulla cultura. A Lecce e a Bari perché queste due città rappresentano insieme l'88% del mondo dell'editoria e quindi vogliamo partire da qui per raggiungere in realtà tutta la Puglia e non solo con gli altri stati confrontarci su cosa possiamo fare di più per aiutare un mondo importantissimo che in realtà deve nutrire l'economia a rafforzarsi e a superare questa crisi che sta vivendo. Gli incontri business to business tra editori pugliesi e operatori stranieri provenienti da sette diversi paesi ha preceduto l'appuntamento barese al teatro Margherita con la mostra Mercato Internazionale dell'editoria indipendente che ha accolto le imprese di settore provenienti da tutte le regioni italiane e la tavola rotonda dedicata all'editoria indipendente nell'era digitale nel corso della quale sono stati messi a confronto i modelli differenti dell'editoria europea.